Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, la notizia è di quelle che non hanno sempre grande spazio sui giornali e devo dire in verità non suscita neanche grande interesse per quanto riguarda il web e anche onestamente il mio canale. Riguardo una brutale aggressione avvenuta a Cerignola, all'ospedale di Cerignola, dove una paziente di 23 anni era arrivata in seguito ad un incidente stradale e poi giorni dopo era stata sottoposta ad un delicato intervento. In questo caso, se ho capito bene la notizia, a Foggia, all'ospedale di Foggia. L'intervento purtroppo qualcosa è andato male e la giovane 23 anni è morta in sala operatoria e si è scatenata l'ira da parte dei familiari che con una vera e propria squadra di quasi 50 persone è entrata nell'ospedale, nel reparto di chirurgia di Cerignola e ha iniziato a farsi giustizia. Ne ha fatte le spese una dottoressa con frattura del polso, un altro infermiere ferito o contusi. Insomma, è successo un po' di tutto. È la prima volta? Assolutamente no. È quasi all'ordine del giorno l'aggressione nei confronti di medici ed infermieri. Io, come sapete chi mi conosce da un po' di tempo, vivo in famiglia queste situazioni perché ho una moglie che è un'infermiera che tra l'altro lavora per il San Raffaele di Milano, dove la situazione è sicuramente meno drammatica, su questo non ci piove, giusto dirlo, però le situazioni che colpiscono queste categorie sono identiche, e cioè di essere clamorosamente sottopagati e sfruttati. Ora, a me capita talvolta di scoprire, parlando con le persone, e non so perché, francamente vi dico che io non so perché, le persone non sanno che un infermiere è un laureato, pensano che gli unici laureati siano i medici, e invece gli infermieri no, cosa assolutamente non vera. Addirittura, per quanto riguarda mia moglie, che è sudamericana, al suo paese ha fatto cinque anni, perché è un corso di cinque anni, l'università per quanto riguarda l'infermieristica. E quindi, voglio dire, sono persone che hanno dedicato gran parte della loro gioventù a studiare per diventare infermieri e per diventare anche medici. E sono, in Italia, incredibilmente sottopagati. Ora, voi dovete sapere che, mediamente, un infermiere guadagna qualcosa come 1.500, 1.600 euro, forse, deve fare turni snervanti, deve lavorare anche, talvolta, nel turno di notte, e così via. Cosa totalmente inaccettabile, cosa che assolutamente non ha paragone in altri paesi europei. E poi, questa storia che, di fronte a certe situazioni, parte l'aggressione, senza che questi vengano difesi, senza avere una tutela. Quindi, non solo non ce l'hanno dal punto di vista retributivo, ma è anche abbastanza facile, purtroppo, arrivare in un ospedale, andare in un pronto soccorso, in una qualsiasi sala chirurgica, operatoria, e farsi giustizia ed aggredire la classe medica ed infermieristica. Oggi si è espresso uno dei portavoce del sindacato, che si è detto che ormai, insomma, si è raggiunto il culmine di questa situazione. Non vi so dire quali potrebbero essere gli sviluppi, ma già sappiamo che molti infermieri, quelli che possono, hanno lasciato e lasciano l'Italia. La situazione non è solo grave nel sud Italia, ma lo è anche al nord, per il semplice motivo che, ad esempio, in Lombardia raggiungere la vicina Svizzera è facilissimo, è molto vicino, e molti lo stanno facendo, vanno a lavorare negli ospedali di Chiasso, di Lugano, di Belinzona, che è raggiungibile in un'ora macchina o treno, quindi anche abbastanza rapidamente. Vedremo come verrà affrontato, dopo questa ennesima, clamorosa aggressione, il problema. Ripeto, quello che è estremamente triste, che in Italia ci sono questioni che non interessano a nessuno, e questo, francamente, spesso mi lascia perplesso. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.